segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e allora dal benvenuto al dottor nicola gratteri procuratore capo di napoli dottor gratteri buonasera bentornato gratteri oltre che fare il magistrato di primissima diciamo linea scrive anche libri il grifone il suo ultimo per sta debù mondadori come la tecnologia sta cambiando il volto dell'andrangheta ne parleremo dottor gratteri vorrei cominciare dal sottosegretario della giustizia del mastro che è stato rinviato a giudizio dal gup giudizio di enze preliminari nonostante il parere contrario del pm e il sottosegretario ha detto è una scelta inconsueta è vero si è raro solitamente la procura chiede o l'archiviazione del mio giudizio c'è la imputazione c'è la il gip che invece non non è d'accordo e dispone il mio giudizio almeno si può dire che non serve la separazione delle carriere ecco ma la separazione delle carriere è un falso problema la separazione delle carriere va in contrario avviso di quello che invece ci dice la comunità europea che già dal 2000 chiede agli stati di incentivare il cambio dei ruoli da pubblico ministero a giudice da giudice pubblico ministero e allora perché una certa politica vuole questa separazione io penso che questa sia la la prima fase la prima parte perché poi l'obiettivo finale è quello di mettere i pubblici i ministeri che sono circa 1900 rispetto ai quasi 10 mila magistrati sotto l'esecutivo questo penso sia l'obiettivo finale perché ad oggi mentre noi parliamo solo lo 0,2 per cento dei magistrati cambia funzione da pubblico ministero passa giudice quello è un falso problema quindi è un falso problema cioè non è che il 50 per cento chiede di cambiare non c'è tutte queste porte girevoli 0,2 per cento e nel momento in cui cambia funzione deve addirittura andare in una corte d'appello non quella nemmeno a quella limitrofa quindi un disagio assoluto e allora semmai semmai il problema è tra il non tra il pubblico ministero che parte e il giudice ma tra il giudice di primo grado e il giudice di appello e il giudice di cassazione cioè il giudice di primo grado ha più interesse certo alla conferma della sua sentenza di primo grado quindi semmai dovremmo fare una separazione tra primo e secondo grado vogliono mettere sotto il controllo della politica i pubblici ministeri e quindi decidere quali reati perseguire io penso che invece il cambio di funzioni arricchisce il magistrato perché il pubblico ministero facendo il giudice e il giudice facendo si mettono dall'altra parte sa cosa c'è cosa serve per formare la prova certo senta a suo parere un sottosegretario alla giustizia rinviato a giudizio dovrebbe dimettersi queste domande non mi devi fare perché se no domani mattina mi fanno un procedimento disciplinare io non posso tornare qui a parlare come magistrato posso parlare sotto un'altra funzione arriva licenziato praticamente se dice la cosa va bene qualcuno non vedrebbe l'ora ah sì e chi lei sa che non tutti sono amici ma a napoli l'hanno accolta bene almeno da catanzaro adesso sì c'è prima so che si ricorda che prima di andare a napoli c'è stato un documento di magistrato democratica che di benvenuto che non è stato di benvenuto documento della camera penale che non è stato di benvenuto e quindi non già da già un mese prima quindi non è che stato una scorta ancora più nutrita a napoli no no da questo non non è questo oggi penso che molti stanno cambiando idea rispetto a quello che sto cercando che sto iniziando a fare a napoli c'era un pregiudizio su di lei c'era un grosso pregiudizio non un pregiudizio anche perché nel corso della motivazione della discussione per la votazione a procuratore di napoli qualche componente il csm anziché parlare bene del suo candidato anziché elogiare il suo candidato si è concentrato sul vivisezionare mie dichiarazioni anziché leggere frasi intere ha preso dei pezzettini hanno fatto la guerra lei anziché portare avanti loro in pratica io penso che quando si vuole si vuole si è convinti che quel candidato sia il migliore deve parlare bene di quel candidato non parlare male del senta più in generale questa torno sulla questione del mastro però con una proprio una questione tecnica è normale che uno che è sottoposto al 41 bis come era cospito sia registrato nelle sue conversazioni per esempio quando va a fare l'ora d'aria cioè ci sia un sistema di intercettazioni e poi quelle intercettazioni quelle conversazioni sono o no coperte da segreto allora guardi intanto questo è il punto su cui ruota la questione del mastro poi allora e sì ma le ripeto io non posso parlare io li posso l'unica cosa dire per questa frase immagino che sui 41 bis lei ne guarda cosa che le posso dire sul 41 bis il 41 bis da quando è nata ad oggi è stato svuotato di contenuti oggi oggi come oggi il 41 bis è meglio essere detenuti al 41 bis che non all'alta sicurezza perché il 41 bis quantomeno ti garantisce che stai in cella da solo e non in una cella sovraffollata e quindi queste già sono registrati solo i colloqui tra il detenuto e i parenti al 41 bis se ci sono altri tipi di intercettazioni sono solo intercettazioni giudiziarie giudiziarie e quindi sono coperte da segreto se sono giudiziarie cioè se c'è un provvedimento del giudice che ha che autorizza le intercettazioni ma non so il caso non mi pare che siano si riferiscono a quelle intercettazioni cioè giudiziarie quindi sono quelle diciamo magari con i familiari sono quelle che per motivi di sicurezza perché il senso del 41 bis qual è di impedire che il detenuto mandi messaggi comunichi con l'esterno questo è il senso del 41 bis e e queste sarebbero coperti da segreto secondo lei no quindi questo potrebbe avere ragione se fosse questo dovrebbe avere ragione la linea di del mastro quello lo vedremo comunque non processo non è non è cosa nostra non è cosa nostra ecco è proprio il caso di dirlo c'è una forte tensione comunque tra governo e magistratura in questo momento dopo questa affermazione del ministro a difesa crosetto questo ha detto a correia della sera questo governo può essere messo a rischio solo da una fazione antagonista che ha sempre affossato il governo centrodestra l'opposizione giudiziaria non mi sorprenderebbe da quei europei che si apre una stagione di attacchi su tale fronte esiste un'opposizione giudiziaria in questo paese al centrodestra non penso le indagini non è che uno si può inventare un'indagine fare un'indagine ci vuole un anno un anno e mezzo non è che è così io decido stamattina fra tre mesi ci sono le elezioni quindi io sa che c'è incomincia a fare un'indagine e lo intercetto e trovo il reato se se quella persona è per bene e pulita reato non trovi quindi male non fare paura non avere cioè se una persona è trasparente tranquillo non è attaccato al denaro non gli piacciono i soldi vuole solo fare il lavoro per cui è pagato non si deve preoccupare allora che servono queste dichiarazioni non lo so se l'ha detto avrà qualcosa avrà sentito avrà percepito avrà annusato chiedetelo a crosetto è giusto dare le pagelle ai magistrati e a lei chi le darà io non ho bisogno di pagelle perché fra cinque anni vado in pensione ma quindi non è un problema mio un problema per me le pagelle servono solo a creare dei magistrati burocrati soprattutto le nuove generazioni di magistrati a creare dei magistrati che stanno attenti ad avere la scrivania pulita ordinata stare attenti alle scadenze dei passacarte e quindi si perde l'anima del pubblico ministero o l'anima del giudice sarà attenti a non a non a non ad essere un perfetto burocrati beh una cosa gravissima certo a me non piace è triste è triste arrivare oggi a questo tipo di discussioni come quando si dice io sentivo prima all'intervista che ha fatto a serra sulla sui sui testi psicotidinali psichiatri sì va bene allora facciamone per tutte le categorie perché sta concentrazione sui magistrati e perché non può essere che un medico sia pazzo ed entra in un reparto e uccidi malati perché allora preventivamente non facciamo una è un insegnante ma anche un ministro che un ministro che comanda un esercito un ministro un testo psicotidinale per capire se 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 nel pieno delle sue facoltà se sveglio vogliono ridurvi le intercettazioni per esempio l'utilizzo del troia le intercettazioni l'utilizzo perché non si può utilizzare il tronine per reati contro pubblica amministrazione perché c'è questa c'è c'è questa ossessione nei confronti della di questa riserva dei reati contro la pubblica amministrazione io sto cercando di fare degli esempi pratici e parlare con linguaggio semplice molte volte anche non tecnico sull'intercettazione fermiamoci un attimo allora io cerco di fare questo esempio questo questo studio è una stanza dove c'è un intercettazione c'è una microspia e stiamo facendo un'indagine per la soluzione di inquizzo a traffico stupefacente o droga a un certo punto entra in questa stanza un pubblico amministratore mentre chiede la cocaina parla quello gli dice che gli ha la cocaina senti allora per quella fornitura per quella così te la te la faccio avere ti faccio vincere la gara però dammi 50 grammi di cocaina dammi 10 mila euro no bene questa intercettazione dove si parla di 10 mila euro di mazzetta o di 50 mila euro di mazzetta io non la posso utilizzare in altro processo si rende conto quindi quel reato non è non lo posso provare non posso istruire noi verso aspetti un attimo se dopo cinque minuti viene il tossico per comprare cinque per comprare cinque dosi e arriva con una bottiglia di liquore quello gli dice ma tu viaggi con sta bene no sai ero qua vicino al supermercato l'ho rubata quell'intercettazione la posso utilizzare e quindi io incrimino il tossico con una bottiglia di ma non è il corrotto della pubblica amministrazione questa è la riforma sulle intercettazioni e allora il prossimo politico che viene qua gli faccia questa domanda dice gratteri ha detto questa cosa è possibile ma è pazzo gratteri o è vero è ma venga lei a fare un confronto con facciamo un bel bel confronto col ministro nordio allora io mi rivolgo al ministro nordio che sicuramente spero accetti la nostra proposta facciamo una bella chiacchierata qui con il dottor gratteri capo della procura di napoli ci candidiamo già settimana prossima giovedì quindi sarebbe bellissimo sulle intercettazioni sono cose importanti senta ma dico due cose volevo chiedere uno intanto che si è concluso pochi giorni fa il suo processo contro le cosche calabresi 2200 anni di carcere per due per 322 imputati come ne esce il sistema politico mi interessa tanto ma ci siamo se questa cosa naturalmente reggerà poi a tutte le prove ai vari gradi giudizio ma qualcuno sosteneva che era un che non sarebbe che non sarebbe proprio poi ieri e qualcuno diceva ma non ci sono omicidi ieri nello stralcio in corte d'assise ci sono stati ergastoli sono condannati 30 anni c'è stato noi abbiamo chiesto la soluzione i miei sostituti ex sostituti hanno chiesto la soluzione per due ed è stato assolto uno quindi il sistema politico come ne esce ma è in base al dispositivo di sentenza si è dimostrato il rapporto con con la politica con i pubblici amministratori sono stati condannati colonnelli dei carabinieri marescialli della guardia di finanza sono stati condannati impiegati della del tribunale del tribunale di 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 vibbo valencia cioè c'è uno spaccato enorme in questo processo ma la gente ha incominciato a criticarlo a priori prima ancora lo stessa la stessa sera degli arresti hanno incominciato a dire che era una una bolla di sapone questo questo processo c'è questo questo vizio di parlare senza leggere ma se solo di capi di imputazione erano 450 pagine in ordinanza di 10.000 pagine ma come fai la sera stessa a dire che l'indagine non è fatta bene senta dranghete tecnologia sono al centro del vostro del libro che ha scritto con antonio nicaso il grifone è vero che i boss comunicano tra di loro su piattaforme tecnologiche che noi dello stato non riusciamo a intercettare esatto allora questo libro è leggermente azzardato perché parla del futuro di quello che le mafie faranno ok allora noi diciamo che in questo momento tutti ci stessi ci elogiamo la polizia giudiziaria italiana la polizia giudiziaria italiana si dal punto di vista investigativo e tra le migliori al mondo dall'estero vengono nelle nostre scuole a lezione va bene però dal punto di vista investigativo gli olandesi ad esempio che non erano al nostro livello gli olandesi i francesi i tedeschi cioè noi ce la giocavamo con tutti hanno bucato queste piattaforme le mafie sono in grado di costruire in questo momento nuovi whatsapp nuove telegram e queste polizie olandesi tedesche sono riusciti a penetrare noi no no e ci mandano e ci mandano migliaia di falle audio ad ascoltare è un po' umiliante certo per la polizia italiana e oggi oggi noi non riusciamo a bucare perché perché nei decenni passati nei decenni passati non si è investito nelle forze dell'ordine quando nel 2010 sono stato bloccate le assunzioni sono state bloccate anche le assunzioni per le forze dell'ordine ma oggi abbiamo buchi anche di 16 mila persone in meno nelle forze dell'ordine ma non si è investito in tecnologia è come la stessa cosa per i medici 15 anni fa si sapeva che oggi non avremmo avuto radiologi o anestesisti bene oggi importiamo dall'albania e da cuba i medici ma oggi perché nessuno chiede conto ai governi di 15 anni fa perché non hanno saputo programmare e il fabbisogno di medici dovremmo chiederlo ai ministri e ai politici senta l'ultima domanda che le faccio è questa letto va in pensione tra cinque anni no come se li immagina il suo primo giorno senza scorta ma ci sarà mai un giorno senza scorta per lei no perché non è che è finita la 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 funzione cioè la 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 mafia non dimentica quindi dovrò sempre stare attento dovrò sempre guardarmi no e quindi ho bisogno sempre di di protezione quindi quel giorno non l'ho mai neanche immaginato non lo penso non lo penso perché non bisogna pensare a questo bisogna essere realisti bisogna pensare a quello che puoi fare e non a sognare se se sogni ti viene la sindrome da soffocamento impazzisce magari scappi invece hai delle responsabilità nei confronti di tutti soprattutto nei confronti della collettività che credi in te migliaia di persone per cui io sono l'ultima spiaggia e quindi non posso assolutamente deludere questa gente grazie a nicola gratteri per essere stato con noi